la moglie del farmacista la cittaduzza di b composta di due o tre vie storte dorme un sonno durissimo nell'aria stagnante silenzio si sente solo in qualche posto lontano probabilmente fuori di città un cane che abbaia confievole arrocchita voce tenorile presto sera d'alba tutto da un pezzo ormai si è chietato non dorme soltanto la giovane moglie dell'aiuto farmacista cernomodic titolare della farmacia di b si è coricata già tre volte ma il sonno si ostina a non venire e non si sa perché sta seduta presso la finestra aperta in sola camicia e guarda nella via soffoca si annoia è di cattivo umore così cattivo che ha perfino voglia di piangere ma perché da capo non si sa come un nodo le sta in petto e di continuo le sale alla gola a tergo a qualche passo dalla moglie del farmacista rannicchiato contro la parete ronfa dolcemente lo stesso cernomodic un'avida pulce gli si è confitta nella radice del naso ma egli non sente ciò e sorride perfino perché sogna che tutti in città tossiscono e ininterrottamente comprano da lui le gocce del re di danimarca ora non lo sveglieresti né con puntura né col cannone né con carezze la farmacia si trova quasi all'estremo della città cosicché la farmacista in distanza può vederla campagna e la vede come a poco a poco in bianca il lembo orientale del cielo come poi si imporpora quasi per un grosso incendio inaspettata da dietro un lontano cespuglio striscia fuori una luna grande dall'ampia faccia e rossa in generale la luna uscendo da dietro gli arbusti è sempre chissà perché enormemente confusa d'un tratto in mezzo alla quieta notturna risuonano i passi di qualcuno e un tintennio di speroni si odono voci sono gli ufficiali che dalla casa degli splavnik vanno al campo pensa la farmacista dopo un po di attesa compaiono due figure in bianche tuniche d'ufficiale una grande grossa l'altra piccola e sottile pigramente passo passo si trascinano lungo la stecconata e discorrono forte di qualche cosa giunte a pari della farmacia le due figure cominciano ad andare ancor più piano e guardano le finestre odora di farmacia dice lo smilzo ed è la farmacia rammento la settimana scorsa fui qui comprai dall'olio di ricino c'è anche un farmacista con un viso acido e una mascella asinina quella caro è una mascella proprio con una così sansone sconfiggeva i filistei ma sì dice il grosso con voce di basso dorme la farmacia anche la moglie del farmacista dorme c'è mi è piaciuta molto dite dottore possibile che la sia in grado di amare quella mascella d'asino possibile no probabilmente non l'ama sospira il dottore con un'espressione come se gli dolesse per il farmacista dorme ora la mammetta dietro la finestrella ottso si è distesa dal caldo la boccuccia semi aperta e un piedino penzoloni dal letto quel babbeo del farmacista penso di questo ben di dio non capisce nulla per lui credo che sia una donna o che sia una damigiana d'acido fenico ma lo stesso sapete che cosa dottore dice l'ufficiale fermandosi su entriamo in farmacia e compriamo qualcosa vedremo forse la farmacista che mi salta in mente di notte e che fa sono ben tenuti a vendere anche di notte colonnello entriamo e sia la moglie del farmacista nascostasi dietro la tendina ode una rauca scampanellata volta un'occhiata al marito che russa come prima dolcemente e sorride si getta addosso la veste calza le babbucce sui piedi nudi e corre in farmacia pietro la porta a vetri si vedono due ombre la moglie del farmacista alza la fiamma nella lampada e si affretta alla porta per aprire e più non si annoia e non è di cattivo umore e non ha voglia di piangere ma solo le batte forte il cuore entrano il dottore grassone e lo smilsob tesoff ora li si può esaminare il panciuto dottore abbronzato barbuto e senza agilità ad ogni minimo movimento la tunica gli fruscia addosso e sul viso gli spunta il sudore l'ufficiale invece eroseo senza baffi femmineo e flessibile come un frustino inglese che cosa desiderate domanda loro la moglie del farmacista tenendosi chiusa sul petto la veste datemi 15 copieche di pastiglie di menta la moglie del farmacista senza affrettarsi prende da un palchetto un barattolo e comincia a pesare i compratori senza batter ciglio le guardano la schiena il dottore agli occhi socchiusi come un gatto sazio il tenente è molto serio è la prima volta che vedo una signora vendere in farmacia dice il dottore non c'è nulla di speciale ribatte la moglie del farmacista sbirciando in tralice il rosio viso di optosof mio marito non ha aiutanti e io lo aiuto sempre già e avete una farmacietta graziosa quanti ce n'è di cotesti vari barattoli e voi non avete paura di passarvela in mezzo ai veleni la moglie del farmacista suggella il pacchettino e lo poggia al dottore optosof poggia lei una monetina mezzo minuto trascorre in silenzio i uomini si scambiano degli sguardi fanno un passo verso la porta poi tornano a guardarsi datemi 10 copecche di soda dice il dottore la farmacista di nuovo muovendosi pigramente e fiaccamente allunga la mano verso un palchetto non avreste qui in farmacia un qualcosa di borbota optosof muovendo le dita qualcosa sapete di allegorico una qualche bibita vivificante dell'acqua di selzo che so io acqua di selzo ne avete si risponde la farmacista brava voi non siete una donna ma una fata su metteteci insieme un tre bottigliette la farmacista suggella in fretta la soda e scompare nell'oscurità dietro l'uscio un bocconcino dice il dottore strittando un occhio un ananasso così optosof non lo troverete neppure all'isola di madera e che ne pensate però lo sentite ronfare è il signor farmacista in persona che se la riposa di lì a un minuto torna la farmacista e posa sul banco cinque bottiglie è stata adesso adesso in cantina perciò è rossa e un po' turbata piano dice optosof quando è l'asturata le bottiglie lascia cadere il cavatappi non fate rumore così se no sveglierete il marito ebbene che c'è se anche lo sveglio dorme così dolcemente vede voi in sogno alla vostra salute e per giunta dice con voce di basso il dottore ruttando dopo l'acqua di selsa i mariti sono una storia così noiosa che ben farebbero a dormire sempre questa acquetta aggiungerei un po' di vinetto di quello rosso che andate ancora a pensare ride la farmacista sarebbe magnifico peccato che nelle farmacie non si vendano alcolici del resto voi dovete pur vendere il vino come medicina avete del vinum gallicum rubrum si beh ecco datecelo che il diavolo se lo scortichi trascinatelo qua quanto ne volete quantum satis prima datecene in acqua un'uncia a testa e poi vedremo optosof prima con acqua e poi ormai per sé il dottore e optosof si mettono al banco si levano i berretti e cominciano a bere il vino rosso ed è vino bisogna riconoscerlo arcipessissimo vinum plochissimum il resto in presenza sembra un nettere voi siete incantevole signora vi bacio mentalmente la manina pagherai caro per poter far ciò non mentalmente dice optosof parola d'onore darei la vita questo poi lasciatelo stare dice la signora cernomordic avvampando e facendo il viso serio che civettina però siete voi ride piano il dottore guardandola di sotto in su con aria scaltra i vostri occhietti sparano a tutt'andare complimenti avete vinto siamo battuti la farmacista guarda i loro visi coloriti ascolta il loro chiacchierio e ben presto si anima in la stessa si sente già così gaia entra in conversazione ride civetta e beve perfino dopo lunghe preghiere dei clienti un paio donce di vino rosso se voi ufficiali dai campi veniste un po più spesso in città e la dice sennò qui è tremendo come ci si annoia io ci muoio semplicemente sfido dice in orridito il dottore un ananasso simile un miracolo della natura in un sito sperduto benissimo si espresse griboyedov in un sito sperduto a sarato e ora che andiamo però molto lieto della conoscenza lietissimo quanto dobbiamo la moglie del farmacista leva gli occhi al soffitto e muove a lungo le labbra 12 rubli e 48 copeche dice optasov cava di tasca un grosso portafogli provvista a lungo in un fascio di biglietti e regola il conto vostro marito dorme suavemente sogna e gli sussurra stringendo accommiato la mano della farmacista non mi piace ascoltar sciocchezze ma quali sciocchezze al contrario non son punto a sciocchezze perfino shakespeare disse beato chi da giovane fu giovane lasciate andare la mano infine i compratori dopo i lunghi discorsi baciano alla farmacista la manina e i resoluti come dubbiosi di aver scordato qualche cosa escono dalla farmacia e lei corre rapida nella stanza da letto e siede a quella stessa finestra vede come il dottore e il tenente uscite dalla farmacia pigramente se ne scostano una ventina di passi poi si fermano e cominciano a bisbigliarsi qualcosa che cosa il cuore le batte le tempie pure le pulsano e il perché la stessa non sa forte palpita il cuore come se quei due bisbigliando laggiù decidessero la sua sorte di lì a cinque minuti il dottore si stacca da optesov e va oltre e optesov ritorna e gli passa davanti alla farmacia una volta un'altra ora si ferma accanto alla porta ora da capo cammina a gran passi infine il campanello tintinna cautamente chi c'è chi è la ho della farmacista ad un tratto la voce del marito suonano e tu non senti dice severo il farmacista che disordini sono questi e gli si alza indossa la veste da camera e tentennando nel dormiveglia ciabattando va in farmacia che cosa volete domanda ad optesov date datemi 15 copecche di pastiglia di menta con un ronfare interminabile sbadigliando sonacchioso e dando dei ginocchi contro il banco il farmacista sale al palchetto e raggiunge il barattolo dopo due minuti la moglie del farmacista vede come optesov esce dalla farmacia e fatti pochi passi scaglia sulla strada polverosa le pasticche di menta dietro l'angolo gli viene incontro il dottore i due si riuniscono e gesticolando con le brazza scompaiono nella nebbia mattutina come sono infelice dice la farmacista guardando con astio il marito che si sveste rapidamente per rimettersi giù a dormire oh come sono infelice ripete sciogliendosi d'un tratto in amare lacrime e nessuno nessuno sa ho dimenticato le 15 copecche sul banco borbotta il farmacista coprendosi con la coperta riponile per favore nella scrivania e subito si addormenta